Buongiorno, buongiorno e bentrovati in questo lunedì 13 femminile. In febbraio 2017 siamo riduci dalla nostra domenica calcistica, una domenica calcistica che si è conclusa con un verdetto ancora pendente in casa Pescara. Oggi chiaramente se ne saprà di più ma sembra giunta al capolinea l'esperienza di Massimo Oddo sulla panchina del Pescara dopo la sconfitta di ieri a Torino per 5 a 3. Ma il risultato ovviamente non inganni perché è stata l'ennesima prova disastrosa del Pescara. Quindi oggi summit tra il tecnico, il presidente Daniele Sebastiani, il DS Luca Leone, l'unico che ieri ha parlato nella sala stampa dello Stadio Olimpico Grande Torino dopo la disfatta. Ha detto sono ore di riflessione, stiamo riflettendo e appunto oggi ci sarà questo incontro dopo il quale potrebbe essere presa questa decisione dunque della separazione delle strade tra Massimo Oddo e il Pescara. È un lunedì con il Teramo in campo alle 18.30 a Fanos contro Salvezza in terra marchigiana. Poi chiaramente ieri anche la Serie D con l'importante vittoria dell'Aquila, ma importante vittoria anche dell'Avezzano sempre nel Gironeggi. Poi tra gli altri fatti di giornata le vittorie nel basket di Chieti e Roseto, anche dell'Amatore Pescara in Serie B. Il ritorno alla vittoria anche della SIECO Service Ortona nel volley di A2. Ma iniziamo con una prima parte dedicata chiaramente alla cronaca. Iniziamo con le prime pagine delle testate locali, le quattro edizioni del Centro. Edizione Aquilana, mutui, post-sisma, banca bocciata. I giudici, gli interessi si pagano soltanto sulle rate sospese. Poi la fotonotizia che è comune alle quattro edizioni del Centro, il problema è quello del dissesto idrogeologico. Frana e Labruzzo servono 80 milioni. Qui una serie di scatti che rappresentano quello che è lo Stato di assoluto disagio che vive la nostra regione sotto questo profilo. Poi di Spalla, Partito Democratico, voto e congresso, Renzi allo scontro, oggi in direzione. L'Ita nel centrodestra torna Berlusconi e Gela Salvini, sbruffoncello. E poi ancora tornando a fatti legati alla regione Abruzzo, Sulmona, bambino di 11 mesi ucciso da un malore. La tragedia, anziano muore d'infarto mentre scia a Roccaraso. Sante Maria, pompiere scacciato e ferito da un trattore. Calcio di Serie D, come detto l'Aquila riavvicina la vetta, vince l'anno 6 e sale a meno 4. Avezzano crede nei play-off e poi sempre per il calcio Pescara, Oddo lascia, ora ipotesi Decagno o Ruscitti. Edizione di Chieti, parenti morosi, morti sfrattati. Il comune di Chieti 60 giorni per pagare i loculi oppure via le salme. E poi ancora in basso a Lanciano, malore e parto d'urgenza, salve madre e neonata. Guardia Grele muore d'infarto in tribuna mentre gioca il figlio. A Pescara colpito con una mannaia grave giovane di Ortona. E poi basket e volley, Progia Resieco, torna il sorriso. Chieti domina Udine, Ortona perfetta contro Cantù. E poi ancora Oddo lascia, ora ipotesi Decagno o Ruscitti. Edizione di Teramo, teppisti assaltano il bar dei tifosi. A Roseto armati di bastoni danneggiano il ritrovo dei supporter del basket. Poi in basso, terremoto e maltempo, allarme della CGL, Teramo in ginocchio. L'inchiesta, carabiniere appunto sotto inchiesta a favorei, banda di spacciatori. Oggi in consiglio a Giulianova si discute il futuro dell'ospedale. Per il basket di A2, Roseto, vittoria all'ultimo tiro. Agli Sharks serve un supplementare per battere Forlì. E poi l'edizione di Pescara. Pescara-Oddo, fine di un amore, divorzio dal tecnico dopo l'ennesima figuraccia. Ora ipotesi Decagno o Ruscitti. In basso, Pescara colpito con la mannaia dopo una lite è grave. Roccaraso, pescaresi stroncato da un infarto mentre scia. Colle Corvino, scontro frontale, feriti due automobilisti. E poi ancora partono i lavori per le buche. I primi interventi subito, ma servono altri 25 milioni di euro. Pronto l'elenco delle strade da rifare. A Montesilvano, Maragno. Il sindaco sotto attacco nel mirino. C'è la giunta. E poi il messaggero Abruzzo, ferito a colpi di mannaia. Questo è il titolo d'apertura. Pescara lite per una precedenza sulla Colena Sud. Due passi dai locali della Movida. Grave un 22enne in fuga all'aggressore con gli amici. Si visionano i filmati delle spy cam. E poi sotto la testata una serie di titoli. Intanto quello principale, Pescara, De Bacla, Torino, Oddo al Capolinea. Sebastiani decide oggi, intanto annullati tutti i permessi ai giocatori. E poi una serie di richiami di cronaca. Guardiagrele ucciso allo stadio da un infarto mentre il figlio siede in panchina. A vasto, a conduttura, a K.O. rimangono senza acqua 18 comuni. L'effetto maltempo, Chieti, Frane e Voragini. E di nuovo emergenza. Allo studio l'ordinanza per chiudere la strada che collega il Colle allo scalo. Continui cedimenti in via Madonna della Vittoria. I residenti hanno paura. Tornando allo sport, vollei di A2. Si eco parte forte, batte Cantuna, la pul salvezza. Basket di A2 per Proger e Sharks. Doppio successo in casa. Di spalla sfila a Cannes. I suoi capi clonati in tutta Europa. Le creazioni della stilista Clara Terribile sfruttate in maniera abusiva. La fotonotizia al centro muore in ospedale bimbo di 11 mesi. Il piccino stroncato da un virus intestinale. Poi a Roccaraso la gita sulla neve finisce in tragedia. Questi i titoli delle prime pagine dei quotidiani locali. Ora passiamo alle testate nazionali. Andiamo a vedere i principali quotidiani e le rispettive prime pagine. Iniziamo dal Corriere della Sera. Sfida nel PD su leader e voto. Renzi basta caminetti e correnti. Ripartiamo. Prodi elezioni nel 2018. Oggi la direzione e la minoranza va all'attacco. Serve un segretario di garanzie. Poi sotto la testata Sanremo che stupisce il karma di Gabbani. La scimmia che balla. Lui il vincitore dell'ultima edizione del festival sabato notte. C'è stato il verdetto. La fotonotizia al centro. Nuova vita. Michelle Obama e Samantha Cameron in tv e nella moda. Il ritorno delle ex first lady anche prima dei mariti. Poi sempre in taglio medio. Mani pulite da Vigo e l'Italia. Troppi corrotti 25 anni dopo. Forum con il magistrato. E poi ancora l'editoriale di Gian Antonio Stella. La voglia di rilancio. In basso droga e violenza nella biblioteca. Ateneo di Bologna la studentessa. Minacce per aver denunciato ciò che tutti vedono. Prima pagina di Repubblica. Come può un prete causare tanto male? Si parla come leggiamo di pedofilia nella Chiesa. Papa Francesco perdono per questa mostruosità. Saremo severissimi. Poi il peccato è un segno del diavolo. Orrendo e radicalmente contrario a tutto ciò che Cristo insegna. Poi le testimonianze, le storie delle vittime fanno luce su una terribile zona d'ombra nella vita della Chiesa. E poi in basso Mattarella incontrerà Xi Jinping a Pechino. L'occasione cinese. 5 miliardi per l'Italia. Poi ancora congresso e voto. Oggi Renzi e LPD alla resa dei conti. Rischio scissione. Prodi urne nel 2018. Di spalla la lettera. Caro Zuckerberg. Lei cosa fa contro l'odio sui social? Possiamo lasciare la prima pagina di Repubblica. Andiamo a vedere il messaggero con il titolo d'apertura. Statali premi decisi dal pubblico. I dipendenti degli uffici saranno valutati dagli utenti. Incentivi legati al gradimento. Oggi le vertici con i sindacati. Allo studio anche orari flessibili. Telelavoro e asili nido. Oscar Giannino firma invece l'editoriale. Burocrazia e disagi. Terremoto. I due errori del passato da evitare. In taglio medio c'è intanto la fotonotizia. Nainggolan e Gekola. Roma non molla. Dopo Crotone torna seconda. Lazio-Milan sfida per l'Europa. E poi per la politica PD lo scontro finale. Renzi vuole il voto alto là delle correnti. Oggi in direzione del segretario rilancia il congresso anticipato. I dubbi del Colle. La prima pagina del fatto quotidiano. La vicenda del Campidoglio. Berdini ecco la mia verità. Raggi e stadio. Ci sono stati errori ma con lei abbiamo sempre difeso la legalità. Sotto la testata direzione PD. Oggi Renzi potrebbe annunciare le dimissioni. Resa dei conti tra cavilli. Rinvie e voglia di non farsi male. In Spagna Podemos vince Iglesias. Il PSOE ora è più lontano. Prevale la linea radicale. Niente accordi. E poi ancora avanti con la prima pagina del giornale. Voto più lontano. Renzi Berlusconi. Via alla partita. Scacchi. Matteo si dimette dal PD e apre a larghe intese. Il Cavaliere frena Salvini. E poi ancora la fotonotizia. I nostri poliziotti umiliati. Se la Germania preferisce i jihadisti a chi li ferma. I fatti dopo le truffe nel editoriale del direttore Alessandro Sallusti. La stampa. L'Unione Europea Italia rischio se va al voto. Oggi le stime sulla crescita del PIL. I timori di Bruxelles legati all'instabilità politica. Renzi lancia la sua sfida al PD. Sabato mi dimetto. Probabili le elezioni a ottobre. L'Europa avverte. Nessuna direzione sulla manovra. Si apre una settimana decisiva per il futuro del governo. E poi la tentazione autunnale dell'ex premier nel editoriale di Fabio Martini. E poi la fotonotizia. Se la mafia trasforma Palermo in un set. Nella città siciliana si generano tre fiction in contemporanea. Libero Grassi, Mario Francese ed Emanuela Loi. Avanti con il tempo. Virginia, almeno caccia questi. È il titolo d'apertura del tempo. L'inchiesta alla sindaca che non riesce a licenziare Berdini. Butti fuori gli occupanti. Siamo andati nei 77 palazzi dell'orrore rischiando le botte tra Degrado, Crimine e Caporossi. Poi ancora al centro, Nainggolan e Geco, Mandano K.O. e Crotone. Stasera all'Olimpico c'è Lazio-Milan. Poi due patate, due misure nel editoriale di Marco Guerra e di Spalla. Oggi i democratici alla resa dei conti. Renzi ha cerchiato. Tutti aspettano le dimissioni di Matteo. Andiamo rapidamente a scorrere gli altri titoli, le altre prime pagine. Libero, ballista e spietato. Il governo frega i terremotati. Palazzo Chigi aveva promesso un miliardo ai senza tetto, ma ha stanziato solo 56 milioni. In compenso, Gentiloni pretende dalle vittime del sistema che versino 560 milioni di tasse arretrate. Poi al centro, Milano vola e Roma sprofonda l'opinione di Giorgio Armani su Italia. Eleganza e mondo. Avanti ancora con il mattino, il giallo dell'appalto anti-acre. Bando della Farnesina ritagliato su una società russa. Spiati tutti gli accessi. Il picco di assalti alla rete informatica nei giorni in cui si decideva la decadenza di Berlusconi. Poi oggi direzione PD e Pisapia divide la minoranza, congresso e voto. Lo sprint di Renzi, Franceschini e Orlando in trincea per lo sport. Napoli, le mosse per lo scacco real. Il gazzettino PD è il giorno della resa dei conti. Il secolo XIX, lui all'Italia a votare adesso è un rischio. Timori per le ricadute economiche. PD, gli anti-Renzi puntano su Orlando. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani nazionali e torniamo ai quotidiani locali, andando a sfogliare il centro e poi il messaggero. In questa prima parte, tutta dedicata alla cronaca, poi nella seconda lo sport con la rassegna stampa e i servizi. Pagina 2 e 3 del centro. Frana, Labruzzo, Chieti, Bisenti, Torre Bruna, metà territorio in dissesto. Le nevicate delle scorse settimane hanno aggravato la cronica fragilità idrogeologica della regione. Servirebbero subito 80 milioni per rimettere in sesto un sistema stradale fortemente danneggiato. La provincia di Teramo ha chiuso 22 strade. Decine di famiglie sono state evacuate e uno stilicidio senza fine. E poi ancora parla il governatore Luciano D'Alfonso. Da 20 anni poca manutenzione, adesso occorre dare continuità. Il premier verrà in visita a Penne e Campotosto. Al tavolo di Palazzo Chigi, opposto la necessità di finanziare le province per 2 miliardi. Andiamo avanti con la pagina di Pescara. Ecco qui, o meglio, le pagine della cronaca di Pescara. Città violenta, giovane ferito con una mannaia. È grave, una lite sul traffico scoppiata di notte sulla Golena Sud. È degenerata, un 22enne colpito al fianco. Si cerca l'aggressore. Poi in taglio basso parla il portavoce dei ristoratori. Ma la Movida non c'entra niente. Somma, escludo collegamenti con le attività di Pescara Vecchia. Incidente a Colle Corvino. Scontro tra auto. Feriti due conducenti. Lo schianto è avvenuto sabato sera sulla provinciale 151. Due uomini di 34 e 32 anni sono stati ricoverati in ospedale. Qui vediamo anche le carcasse delle due vetture. Immortalate nelle due foto. Partono i primi interventi per 42 strade groviera. Dopo l'approvazione del bilancio, il Comune dà il via ai lavori di manutenzione e alle opere antiallagamenti. Ma per tutti gli appalti servono 25 milioni di euro. Il vice sindaco del Vecchio avvieremo subito le gare. Entro aprile apriranno i cantieri. E poi qui c'è una tabella riepilogativa degli interventi più urgenti da fare. Quelli antiallagamento da una parte e poi le strade da asfaltare sia della zona nord sia della zona sud di Pescara. Qui vediamo tutte le vie interessate da questi interventi. A Montesilvano grandi manovre a destra. Nel Merino c'è la Giunta. Il neonato gruppo detta le condizioni al sindaco Maragno. Subito i soldi per risolvere il problema degli allagamenti su Riviera e Traverse. Poi ancora vediamo di spalla in questa pagina la tragedia di Rigopiano. Avvocato dei familiari critica l'omedia di Valentinetti. Le pagine di Chieti, la pagina di Chieti, cimitero, parenti morosi, morti sfrattati dai loculi sull'albo del municipio. L'avviso ai familiari o pagate entro 60 giorni oppure le salme vanno nel campo comune. E poi gli eroi di Farindola saremo il fratello di Dino, una delle vittime di Rigopiano, Dino di Michelangelo. E poi ancora in taglio medio, parto d'urgenza, salve madre e figlia. Lanciano, la donna sviene al mercato per il distacco della placenta. Corse in ospedale, stanno bene. Invece una tragedia si è consumata a guardia grele, stroncato in tribuna da un infarto mentre gioca il figlio. Pagine dell'Aquila e di Teramo. L'Aquila città sotto shock, bimbo di 11 mesi ucciso da un malore. A Sulmona per la precisione. Accusava febbre, mal di pancia, è stato trasportato al pronto soccorso ma nonostante le cure non ce l'ha fatta. Le indagini sull'episodio. La decisione sull'autopsia sarà presa solo oggi dalla procura dopo aver sentito medici e personale in servizio ieri all'ospedale. Poi un taglio medio, sciatore stroncato da infarto sulle piste. Roccaraso, Rinaldo Giordano Pescarese aveva 72 anni, vana la corsa del 118 in ospedale. Poi in basso, l'inferno di Auschwitz raccontato ai ragazzi. A Civitella, Roveto, incontro con i sopravvissuti di Nicola. Molti rovetani lottarono contro le leggi razziali. Pagina di Teramo Blitz prima della partita. Roseto, assalto al bar con i bastoni. Un gruppo di teppisti con i volti coperti cerca di entrare nel bar a onda ma gestori e clienti si barricano dentro. Lancio di bottiglie e mazzate contro le vetrine del locale che di solito è il ritrovo della tifoseria del basket. A quell'ora però ancora non è arrivato nessuno dei ragazzi della curva. In basso, favori a una banda di spacciatori, droga sulla costa. Nell'inchiesta, indagati un carabiniere di Tortoreto e sua moglie. Ora andiamo al messaggero Abruzzo con le pagine interne. Siamo nella pagina di Pescara. Ferito con la mannaia, notte di sangue a Pescara Vecchia. Grave in ospedale, un ragazzo di 22 anni. Gli amici parlano di una lita per motivi stradali. Si scava nel passato della vittima. Coordina le indagini il PM Mirvana di Serio. Dopo un periodo tranquillo, nuovi segnali allarmanti dalle vie del divertimento. Poi ancora la polizia cerca un gruppo di cinque aggressori. Passate al setaccio le telecamere del centro storico. Poi ancora l'hotel non utilizza i 25 posti auto. Il comune è pronto a riprenderseli in commissione garanzia. Il caso del Duca d'Aosta, rischio di revoca della concessione sulla Golena Nord. Poi ancora pagina dell'Aquila. Ecco come via 20 Settembre si trasformerà in un salotto. Il vecchio palazzo che si sta abbattendo lascerà il posto a due edifici più moderni. La circolazione sarà riaperta già stamani, ma via Sant'Agostino chiusa ancora un po'. Ettore Baratelli, la demolizione del condominio Villa Fausta proseguirà per altri dieci giorni. Poi ancora Campo Felice, presa d'assalto, emergenza, parcheggi in basso. Bus a fuoco nel traforo, chiuse le indagini. Il grave incidente si poteva evitare. Ha indagato il titolare di una ditta di trasporti marchigiana. In Marsica, o meglio a Sulmona, lo abbiamo visto, muore in ospedale bimbo di 11 mesi. La causa del decesso, molto probabilmente collegata a una forte disidratazione dovuto a un virus intestinale. Il primario di pediatria, il piccolo in uno stato gravissimo di shock, era arrivato al punto da non urinare neanche più. Aveva sofferto negli ultimi tre giorni di una grave forma di disenteria. Poi ancora, pagine di Chieti e Teramo. A Chieti, Frane e Voragini torna la paura, fonda Madonna della Vittoria. Verso la chiusura, la strada che collega il colle allo scalo. Oggi l'ordinanza, cedono le fogne in Viale Gran Sasso, sul posto i pompieri. Zona interdetta e continua l'emergenza. Crolli ovunque, provincia e comune valutano gli interventi per la messa in sicurezza delle aree a rischio. Poi guarda il figlio giocare, muore per un infarto. Tutto questo è successo a Guardiagrele. La vittima è Massimiliano De Fresco, di 48 anni. Stava assistendo a una partita di terza categoria a Guardiagrele. Poi ancora a Vasto, altra falla nella condotta. Restano a secco 18 comuni. Pagina di Teramo, allarme spopolamento, migliaia in fuga dalla montagna. Minosse, il sindaco di Cortino, bisogna far ripartire subito le attività commerciali. Dario Sfoglia di Confcommercio, ragionare tenendo conto che si tratta di comparto unico. Il presidente della provincia di Sabatino è stata smantellata una rete di protezione e mobilitazione unitaria. A Giulianova, ospedale, oggi consiglio, c'è lo spettro delle assenze. Il governatore ha già detto di no a rischio, Paolucci e i tre consiglieri. Poi sempre a Giulianova, tre sedi per la musica e nasce Scuola Diffusa. In basso, a Martinsicuro, comunali, Toni Lattanzi in campo con la sua civica. L'ex assessore, dopo le vicissitudini risolte positivamente, presenterà la sua squadra con sorprese. Noi ci fermiamo qui per questa prima parte di mattino 6. Ora diamo lo spazio alle previsioni del tempo, poi alla pubblicità e poi rientriamo con le pagine dello sport, Gazzetta e Corriere e le pagine dei quotidiani locali, ma anche tanti servizi. Di nuovo buongiorno, la seconda parte di mattino 6. Prima ancora di aprire con lo sport, un lancio ANSA, arrivato poco fa in redazione, facevano prostituire anche minorenni. La polizia ha arrestato due nigeriane di 28 e 33 anni, legata a un'organizzazione criminale che reclutava ragazze in Nigeria per poi sfruttarle in Italia. L'operazione è stata compiuta dalla seconda sezione della squadra mobile di Ferrara. Le donne, rintraccette a seguito di perquisizioni eseguite a Ferrara e a Pescara, in collaborazione con l'omologo ufficio investigativo, sono state arrestate in esecuzione di misure cautelari proposte dalla DDA di Bologna e accusate di concorso in prostituzione minorile e favoreggiamento e sfruttamento aggravati. Ora apriamo con lo sport, vedendo le pagine di Gazzetta e Corriere dello Sport. Questa è la prima pagina, una prima pagina divisa in due a sinistra. Rombo Iguain, Cagliari Juve 0-2. Il Pipita risolve con una doppietta del capocannoniere con Gieco e i bianconeri. Restano a più 7. A destra Tuono Eder, segna e ispira Candreva, dimenticate polemiche e assenze. Pioli servono 12 vittorie e un rigore prima o poi. Inter Empoli 2-0. Poi il commento nel mezzo Gigi Riva e la mistica del nostro calcio. Ieri l'omaggio del Sant'Elia al bomber indimenticato del Cagliari e della nazionale. Gigi Riva qui nel tondo, nell'abbraccio con il portiere della Juventus e della nazionale Buffon. Sotto la testata Ninja Roma, gol e videotape. La Ingolan sempre in rete, in tutti i sensi evidentemente. Spalletti dice un top player ma ora dorme da me. Euro Atalanta, Gomez scatenato anche Cristante. L'ex Biancazzurro nel 3-sal Palermo. Quinto successo nelle ultime sette gare in A. e Gasp si scioglie. Sì, siamo in corsa. Super Toro vai col 5. Il Gallo canta altre due volte. Doppietta di Belotti col Pescara va 5-0. Ma che brividi nel finale. Me prende 3 in basso. Stasera Lazio-Milan. Montella l'idea tridente con Deulofeo falso 9. Discesa mondiale. Beffa-Goggia. Quarta ma che sfortuna stavolta ho pianto. Tennis, Fed Cup, cronano le azzurre e passa la Slovacchia. Rischiamo la Serie C. Poi ancora andando all'interno a vedere le pagine di Torino-Pescara. Ecco qui Tornado Belotti. Alta doppietta per il Toro. Poi il Toro quasi guasta la festa. Il protagonista chiaramente è il Gallo. Mai dopo 24 turni una punta granata. Aveva fatto meglio. Promessa mantenuta all'intervallo in TV. Nel secondo tempo ne faccio un altro. E così è stato. E poi in basso le lacrime di Oddo. Oggi si dimette. Il tecnico potrebbe andare via. Il DS Leone. La società sta riflettendo. Passiamo ora al Corriere dello Sport. Per vedere il titolo d'apertura. Comanda Higuain. Doppio pipita. Tiene la Juve a più 7. Torna re dei bomber con Dzeko. L'argentino con un micidiale 1-2. Piega il Cagliari. È la strada giusta. Stiamo calmi e andiamo avanti. Allegri così fino alla fine. Poi c'è l'opinione di Alessandro Vocalelli. Gonzalo il gol. Una favola iniziata il 12 febbraio del 2006. Sotto la testata. Tutti in piedi per Riva. Che amore per il mito. Quanta commozione al Santeria per il premio del CONI a Gigi. Ringrazio il presidente Malagò che è venuto fino a casa mia. E poi in taglio medio. Giallorossi ok a Crotone. Pioli è quarto. Caos Pescara. Dio a Oddo. Roma decide il Ninja. Inter con Eder si vola. E poi in basso. Olimpico ore 20.45. La Lazio col Milan per salire e sognare. Andiamo a trovare anche in questo caso la pagina di Torino Pescara. Con questo titolo. Il Pescara non c'è più. Oddo verso la Dio. Goliada, Toro e Sebastiani valuta il cambio Decagno, Rossi o Iaconi. Poi bocche cucite. Niente riposo per i giocatori. I Granata tornano a successo dopo un mese e mezzo. Tre reti in 15 minuti. Poi la solita flessione. Prima di andare a vedere centro e messaggero sulla vicenda Pescara. Andiamo a vedere il comunicato di Ramato. Ieri, poco prima della mezzanotte, sul sito del Pescara. Ci scusiamo con i nostri tifosi. Al momento siamo tutti in discussione. Nelle prossime ore la società farà le proprie valutazioni. Sono appunto le parole pronunciate nel dopogara dal DS Luca Leone. Poi in basso si precisa che al momento la società non ha ricevuto alcuna proposta di dimissione. E che domani mattina è in programma, quindi tra poche ore, è in programma una riunione tecnica tra dirigenza staff e calciatori biancazzurri. Quindi, insomma, questa riunione dirà molto sul futuro del Pescara, anche sulla posizione in particolare del tecnico Massimo Oddo. Anche se è molto probabile la separazione delle due strade, quella del Pescara e quella di Massimo Oddo. E veniamo ora al centro e al messaggero. Partiamo dal centro, l'inserto Nui di Sport, Pescara Oddo, l'ora del divorzio, svolta dopo la figuraccia di Torino, soluzione interna oppure De Cagno per la successione. C'è anche l'opinione, il corsivo di Rocco Coletti ci ha messo la faccia fino alla fine. Poi gli altri temi di questo fine settimana. Lega Pro, il Teramo a Fano, con tempesti fin dall'inizio. Pallavolo di A2, la Sieco impavida comincia la pulsa Alvezza col piede giusto. Il voto a Chieti, Fabio Di Camillo confermato presidente regionale della FIPAV. Basket di A2, Progerchieti e Roseto fanno festa. Poi ancora in basso, l'Aquila si rilancia. Bene l'Avezzano, la Vassese ancora a K.O. per la Serie D. In eccellenza, Martinsicuro rallenta Francavilla e Paterno primi a Braccetto. Promozione Fontanelle a Valanga. Spoltore e Silvi fanno il colpo. E ancora con queste due pagine, il Pescara umiliato, un'altra disfatta. Oddo e ai saluti. Torino in gol dopo 65 secondi. Poi la grandinata fino al 5 a 0. Gli 80 tifosi biancazzurri lasciano lo stadio per protesta. Finisce 5 a 3. Oggi il divorzio ufficiale, l'allenatore si arrende all'evidenza. De Cagno o Ruscitti, ovvero il tecnico della primavera, per la sostituzione. Il tecnico fu ribondo all'intervallo negli spogliatoi quando ha alzato la voce con i suoi. Poi nel dopogara la decisione di porre fine all'avventura iniziata nel maggio del 2015. La società valuta le alternative, puntare su una figura esperta ma che vorrebbe un contratto fino al 2018 o promuovere l'allenatore della primavera. Poi le pagelle, tutti dietro la lavagna. Non entriamo nello specifico ma sono tutti voti disastrosi, tranne che per Benali autore di una platonica doppietta. Il dopo partita, Sebastiani difende Oddo. Le colpe non sono solo sue. Il DS Leone traballa, siamo tutti in discussione. Chiediamo scusa ai nostri tifosi. Nessun giorno di riposo alla squadra. Ghiomber ha un passo dal Grozny in Russia. Poi vediamo anche il messaggero Abruzzo, Toro, Capolinea Oddo. Il tracollo contro Granata può costare la panchina al tecnico. Sebastiani decisione nelle prossime ore. Il tecnico dovrà dire se ha la forza di continuare. Difficili Rossi e Iachini. Ipotesi Decagno e Colomba. Durissimo sfogo dell'allenatore nell'intervallo. Smentite le voci di dimissioni a fine partita. A fine partita ha parlato il DS Leone. Chiediamo scusa a tutti in discussione. E poi contro I Granata un'altra figuraccia. Andiamo a vedere il servizio della partita. Il firmato da Paolo Renzetti e poi l'intervista post-gara al DS Luca Leone. Un pescara da film horror per un'ora è comunque almeno decoroso solo nella seconda parte di ripresa perde e male all'Olimpico di Torino in una gara che ha fatto imbestialire i cento tifosi biancazzurri arrivati in Piemonte per assistere ad una gara che pensavano diversa anche dopo quanto accaduto in settimana. I numeri della formazione di Massimo Oddo messo in discussione per la prima volta al rischio esonero restano impietosi e da brividi con un lungo finale di stagione che potrebbe assomigliare quasi ad un'agonia. Il 5-3 finale è ingannevole perché per tre quarti di partita non c'è stata quasi storia. La sveglia del finale non può giustificare quanto fatto anzi non fatto da bizzarri e soci per 70 minuti e ora inizia una settimana che potrebbe regalare più di qualche sorpresa. Davanti a 15.000 spettatori agli ordini del signor Maresca di Napoli l'arbitro della gara promozione di Trapani si presenta un pescara con il solito modulo e con Fornasier centrale in coppia con Stendardo e Meusciai a centrocampo con Verre Brugman. Nel Torino c'è la stessa formazione della vigilia con il 4-3-3. Pronti via e al secondo Iago Falco e sul primo affondo Granata tutto solo davanti a Bizzarri firma l'1-0. Neanche il tempo di riorganizzarsi che al nono Ageti fa 2-0 sugli sviluppi di una punizione calciata a centro area e dopo una torre perfetta di Belotti. Squadra abruzzese evidentemente ancora negli spogliatoi visto che al quarto d'ora il gallo Belotti lanciato in contropiede se ne va tutto solo verso Bizzarri andando a firmare così il Tris. Oddo impietrito in panchina al 27esimo effettua la prima sostituzione ritrovando negli spogliatoi Castanossa al posto di Crescenzi mentre poco dopo al 34esimo arriva la prima vera occasione per il Pescara che capita sui piedi di Caprari che trova una grande risposta di Joart. Dopo un primo tempo a dir poco deficitario nella ripresa Massimo Oddo manda in campo coda al posto di Stendardo già ammonito in curva sud intanto i 100 supporters adriatici abbandonano il settore loro riservato per protesta così come è accaduto anche nella gara con la Lazio. Il reframe in campo è sempre lo stesso con il quarto gol di casa segnato all'ottavo dagli Aic con la complicità di Bizzarri. Oddo sconsolato si siede in panchina prima della cinquina firmata al sedicesimo da Belotti per la formazione pescarese una brutta cartolina il resto della gara non è però senza storia con i Granata che prima non infieriscono e poi rischiano da segnalare anche al 26esimo un tiro centrale di Meunshay parato da Art prima della più clamorosa delle autoreti di Ageti che nel tentativo di anticipare un avversario infila il suo portiere. Alla mezz'ora è ben ali a segnare il gol del 5-2 rendendo la pillola solo un po' meno amara visto che il giocatore di origine libica al 38esimo segna anche la rete del 5-3 finale per Ile Pescara troppo poco in una gara dominata dal Torino per almeno 70 minuti e al triplice fischio finale in casa adriatica sono iniziate le riflessioni della società anche e soprattutto sul futuro di Massimo Oddo. Stiamo riflettendo su quello da farsi ci tenevo a scusarmi con la tifoseria da parte della società per la brutta prestazione di oggi e brutto primo tempo per come è andata la partita poi faremo delle riflessioni e vedremo quello che succederà. Ma sulla posizione di Oddo? Ma anche la mia era in posizione di tutti perché la situazione non è bella e poi non si possono fare delle partite che dopo 20 minuti sono già finite quindi i tre gol del secondo tempo fanno ancora più arrabbiare perché un po' sembra l'andamento di quest'annata una squadra che ti dà la sensazione che potrebbe fare di più però la realtà è che finora non abbiamo vinto una partita. Che cosa non è andato in questo campionato in questa stagione? Perché i numeri del Pescara sono numeri mortificanti. Quello che non è andato è quello che si vede sul campo una squadra che logicamente vedere oggi che è la prima palla che arriva in area prendiamo gol in questo momento la squadra è fragile ha paura e sinceramente bisogna fare qualcosa. A proposito di Oddo ci hanno riferito alcuni colleghi durante l'intervallo che c'è stato uno sfogo ci sarebbe stato usiamo il condizionale uno sfogo del tecnico con i giocatori si sentivano delle urla all'esterno del piazzale dello stadio a lei risulta questo? Sono stato in panchina con la squadra sono stato uno spogliatore ma penso che ma penso che sia normale perché il primo tempo della nostra squadra non è stato il primo tempo di una squadra di calcio che deve cercare di salvarsi per gli sviluppi sulla vicenda Pescara Oddo e quant'altro chiaramente vi rimandiamo ai nostri notiziari e in particolare alla trasmissione di questa sera replay di Enrico Rocchi per commentare quella che sarà probabilmente una giornata decisiva sotto questo punto di vista scendiamo in Lega Pro andiamo sul centro Teramo Zauli gioca la carta Tempesti per tornare a sperare i biancorossi a Fano tentano il colpo vincente che manca da 71 giorni al rientro Spighi va in panchina e poi vediamo anche sul messaggero il titolo che riguarda la Lega Pro Teramo oggi a Fano si decide la salvezza si gioca alle 18.30 fondamentale conquistare i tre punti per evitare nello scontro diretto il rischio della retrocessione Narciso in porta Zauli ci attende una partita delicata ma sono fiducioso i marchigiani si sono rinforzati allora il servizio di presentazione della gara firmato da Agna Cantagalli Almancini saranno in gioco l'onore e la classifica il Teramo che affronta il Fano fa la legno di coda staccato di 4 punti dai biancorossi all'ideale match ball per allontanare il rischio di retrocessione diretta vincendo proprio in casa dei marchigiani per farlo servirà a regalare a Zauli il suo primo successo dall'allenatore del Teramo ancora mai arrivato tra prima e seconda esperienza sulla panchina centrando tre punti buoni per iniziare la risalita e con la gara contro il Pordenone ancora da recuperare il tecnico che rischia la panchina proprio nella città in cui vive in caso di risultato negativo dovrebbe in sostanza confermare la formazione che ha pareggiato domenica scorsa contro il Sant'Arcangelo ma preferendo Tempesti e Barbuti per affiancare Sanzovini per Carraro si profila un'altra panchina con Di Paolo Antonio trequartista e Sales in ballottaggio con Carcalis sulla parte sinistra della difesa non devo non devo difendere me stesso io voglio difendere i giocatori e che i giocatori secondo me meritano risultati diversi e lotteranno sono strassicuro che lotteranno fino all'ultimo secondo per ottenere questo tipo di risultati poi il mio futuro coincide con i risultati questo lo so mi sembra scontato non ci stiamo dicendo niente di nuovo dall'altra parte l'alma Juventus-Fano degli ex Ferrani e Borrelli non avrà in panchina Cuttone squalificato per due giornate e dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione che ha perso domenica scorsa contro la San Benedettese fallendo la rimonta è una squadra che ha cambiato tanto davanti ha comprato Melandri Fioretti e Germinale che quindi sono andati sull'esperienza su giocatori importanti per la categoria che la società ha fatto investimenti importanti in questo mercato di gennaio quindi ha mandato un input ai giocatori di voglia di salvezza e avendo fatto il giocatore quello è un dato molto importante e chiaramente sono concentrato su di noi nel senso che noi dobbiamo pensare a fare la partita migliore che possiamo noi abbiamo fatto la nostra scelta ben precisa io sono straconvinto che i nostri giocatori ci porteranno alla salvezza quindi non faccio giochini da fantacalcio oggi i miei giocatori li vedo molto molto seri molto concentrati sull'obiettivo finale e a prescindere da momenti negativi o meno la determinazione che ci stanno ci stanno mettendo non ho nessun dubbio sulla loro sulla loro voglia di salvarmi quindi io non sostituirò veramente nessuno a dirigere la sfida salvezza al Mancini Meleleo di Casarano con fischio d'inizio alle 18.30 sempre sul messaggero per il rugby pool promozione l'Aquila parte perdendo a Firenze inizia male anche la Gran Sasso che esce battuta da Genova per la pallannuoto una giornata positiva per le squadre abruzzesi e poi le azzure dell'Ital Rugby KO ma è festa allo stadio 4.500 spettatori hanno assistito al match contro l'Irlanda calcio femminile sconfitta Amara per il Chieti il Cuneo passa all'Angelini torniamo alla serie di girone F il San Nicolò frena contro l'Area Canatese finisce 1-1 con De Santis che rimonta dopo il vantaggio ospite Epifani un po' deluso mi aspettavo una prestazione migliore Terramani sfortunati nel finale Traini spedisce alto da facile posizione e poi per il girone G Avezzano vede i playoff con i gol di Leto e Marolda battuta la nuorese le reti nella ripresa intanto c'è la salvezza l'allenatore Tortora è spulso Patron Paris grande risultato il gruppo è fantastico sempre per il girone G l'Aquila vince si mantiene in corsa successo in remuntata all'Anusei con Noman e Russo sugli scudi finale incandescente due espulsioni e l'attaccante che aveva segnato finisce negli spogliatoi le dichiarazioni del tecnico Morgia un passo avanti ma il cammino è lungo d'ora in poi non abbiamo scelta dobbiamo solo vincere Vastese Crack con il Matelica parte male l'avventura di Favo in panchina i biancorossi sono fuori dalla zona playoff terza sconfitta consecutiva per i biancorossi Prisco nella ripresa aveva riaperto le speranze di pareggio il Pineto non sfrutta l'uomo in più ed è pareggio subito in gol esposito nella ripresa della traversa sfortunata di Logoluso poi è finita 1-1 sul campo della San Maurese noi però andiamo a vedere i successi del Girone G quello dell'Avezzano sulla Nuorese al Dei Marsi e poi la vittoria in rimonta dell'Aquila a Lanusei in Sardegna l'Avezzano torna a vincere anche al Dei Marsi e lo fa battendo nello scontro diretto la Nuorese con un 2-0 confezionato tutto nella ripresa Tortora cambia tre undicesimi della formazione che ha vinto a Muravera al centro della difesa torna Tabacco in coppia con Menna al centro campo spaccia allopinto i tre davanti sono Pollino Padovani e Bittaglie Mariotti che deve rinunciare allo squalificato Peana sposta Di Nardo a destra e inserisce terzino basso a sinistra carta confermato dal primo minuto a Oriemma a centro campo in avanti il peso dell'attacco e sulle spalle di Curcio primo tempo avaro di occasioni con l'Avezzano che prova ad imporre il proprio gioco senza tuttavia riuscire a impensierire Frasca l'occasione più ghiotta al 27esimo quando Pollino trova un varco e se ne va sulla destra per poi crossare in mezzo per Padovani che in tuffo spedisce a lato al 34esimo Bittaglie trova la conclusione dal limite costringendo Frasca a rifugiarsi in corner la nuorese si difende ma non riesce a produrre una reazione efficace tanto che Lewandowski è di fatto inoperoso il primo tempo si chiude al 41esimo con Padovani che scarica indietro per Lopinto conclusione centrale facile preda del portiere Sardo tutto accade nella ripresa la partita fortemente bloccata ha bisogno di un episodio per incanalarsi dalla parte dei bianco-verdi di casa il lampo è quello di Leto che al 28esimo viene messo giù in area da Scognamiglio ammonito nell'occasione dagli 11 metri lo stesso Leto è implacabile e spiazza Frasca per l'1-0 a Bezzanese dopo il vantaggio i ragazzi di Tortora ci credono e spingono sull'acceleratore riuscendo a concretizzare il raddoppio al 32esimo con il neo entrato Marolda che riceve palla da Capitan Sassarini sul filo del fuorigioco e con un preciso pallonetto supera Frasca per la seconda volta al 36esimo Tortora viene allontanato dal direttore di gara Marco Emanuele dalla panchina contestualmente ad un fallo subito da Padovani non sanzionato proprio davanti alla panchina bianco-verde la reazione della nuorese è inconsistente la squadra sarda si vede solo nel finale con un colpo di testa di Falasca sugli sviluppi di un calcio piazzato parato da Lewandowski riesce così alla squadra del presidente Paris l'aggancio in classifica proprio alla nuorese a quota 38 punti che valgono il settimo posto nel girone G un presidente Paris che a fine gara parla anche del rapporto con Sterpetti della situazione debitoria e del futuro del club bianco-verde l'Aquila che oggi ha presentato un assetto molto offensivo perché nonostante l'assenza di Peluso erano in campo Noman Minincleri Russo e Valenti poi al centrocampo la vista Esteri poi una difesa a quattro con Arboleda Pietrantonio Pepe e Gagliardini qui c'è un'occasione che vediamo per Minincleri palla leggermente sopra la traversa poi Lanusei che ha interpretato la gara con grande aggressività nel primo tempo sfiora il gol qui con il centravanti Enciu e poi arriverà quest'altra occasione per Papini in rovesciata dopo la torre di Enciu e quindi vediamo questa azione che dovrebbe essere quella del gol con un triangolo che porta al cross Papini e poi c'è lo stacco del più piccolo in campo per lo meno nel Lanusei ovvero Jonathan Perez il numero 7 che qui vediamo da questo controcampo va in stacco e sorprende la retroguardia dell'Aquila in particolare Arboleda e realizza dunque il gol dell'1-0 nulla da fare per Farroni ci sarà una reazione timida dell'Aquila ma poi il Lanusei avrà anche dell'opportunità per il raddoppio tra poco vedremo un'opportunità per Mininchieri che calcia alto con il destro sull'uscita dell'estremo difensore dell'Anusei ovvero la Ferrara poi vedete alcune occasioni in particolare per Papini molto bravo Farroni a tenere in vita le speranze di vittoria della squadra aquiliana qui ancora Papini che lotta con Arboleda poi c'è l'uscita di Farroni siamo nel secondo tempo con Perez l'autore del gol 1-0 che ci riprova il suo tiro e Farroni respinge di pugno ancora in contropiede il Lanusei con Enciu che svirgola la conclusione con il sinistro e poi la reazione finalmente dell'Aquila cross di Russo a colpo di testa di Nohman un po' incerto nell'intervento la Ferrara e c'è dunque il pareggio dell'Aquila che arriva nel primo quarto d'ora della ripresa il Lanusei qui avrà un'altra opportunità con un tiro di Cadi e la respinta di Farroni e poi ecco il gol con Valenti che verticalizza per Russo che parte sul filo del fuorigioco uscita incerta di La Ferrara che fa una cosa che non avrebbe dovuto fare evidentemente esce nella terra di nessuno Russo ne approfitta e realizza il gol dell'1-2 quello che sarà il gol partita di Russo che nel finale di gara sarà anche espulso finale di gara concitato ma l'Aquila riuscirà a portare a casa una vittoria a dir poco fondamentale per tenere in vita le speranze di vittoria del campionato e proseguiamo sul messaggero andando a vedere la pagina sul volley la sieco parte forte Cantù sul classato gli ortonesi iniziano bene la pulsa alvezza dominando con grande facilità è una prova super la gara De Sordio che la vedeva opposta in casa a Cantù ha funzionato benissimo la correlazione muro difesa De Oliveira è stato controllato parziali 25 a 18 25 a 14 25 a 15 le parole di Simoni nel dopo partita gara perfetta senza cali di tensione per il calcio a 5 Acqua e Sapone Parin rimonta contro la Luparenza la tripletta finale di De Oliveira evita la sconfitta i nerazzurri freschi di successo nella Winter Cup e invece il Pescara battuto in finale nella Winter Cup batte il Rieti e riprende la marcia dunque successo per la squadra di Colini al pala Malfatti per 3 a 4 basket di a 2 Roseto prima spreca e poi supera il Forlì Sharks avanti a lungo ma rimontati nell'ultimo parziale al termine di un supplementare decide un canestro di Smith gettati a mare 20 punti di vantaggio ma poi l'invenzione dell'americano lancia gli squali l'orgoglio della Proger che piega Udine anche senza un americano gran prova di squadra per sopperire all'assenza di Davis ottimo Venucci in attacco bene anche Golden l'intensità sprigionata in difesa per tutti i 40 minuti le parole di Venucci e Bartocci che felicità nel dopo partita poi il calcio di eccellenza Martinsicuro stop Casalingo l'angolana strappa il pari con le reti di Orta e Cipressia di Fabio non basta la doppietta di Maio 2 a 2 a Martinsicuro mentre al Francavilla basta un gol di Galli nel finale per piegare i nerostellati prima vittoria per la gestione Gelsi vittoria anche per il Paterno che cala il Tris contro il Montorio quindi la classifica vede ora Francavilla e Paterno coppia di testa con 48 punti Martinsicuro che insegue a 46 ma con una partita in meno dunque potenzialmente primo il Martinsicuro poi i nerostellati al quarto posto con 44 punti quindi l'angolana 43 e torniamo al centro per vedere la pagina della serie B di Basket Pescara vince ed è secondo gara equilibrata l'amatori supera Bisceglie dopo un tempo supplementare punteggio di 88-83 con 29 punti del solito Simone Pepe Bisceglie invece allenata dall'ex coach di Roseto Atri e tante altre realtà abruzzesi anche Chieti ovviamente Domenico Sorgentone successo pesante sul campo di Taranto per la Wirrtona 76-79 poi Campi K-O a Senigallia primo passo falso dell'anno per la squadra Farnese 74-61 mentre Giulianova crolla nel finale contro Porto Sant'Elpidio 68-52 nel girone C Teramo cede a Catanzaro ma i biancorossi restano in vantaggio negli sconti diretti Catanzaro vince 72-67 finiamo qui con la rassegna stampa di Mattino 6 ci lasciamo però con il servizio di San Nicolore Canatese 1-1 vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 ore 14-19 e ore 23 e poi l'appuntamento più importante che mai questa sera alle ore 21 in diretta replay di Enrico Rocchi per commentare questo lunedì che sarà particolare con una decisione da prendere circa le sorti del tecnico Massimo Odo grazie a Gianni della riunione regia grazie a voi che ci avete seguito buona giornata spazio al servizio finisce uno a uno tra San Nicolore e Re Canatese al termine di una partita che i biancazzurri non iniziano bene ma che riescono poi a recuperare sfiorando anche la vittoria nel recupero Epifani da respiro a Bisegna e manda in campo Bosi e Iorio dal primo minuto a far compagnia a Chiacchiarelli per provare a rifornire Traini la prima mezz'ora trascorre senza particolari emozioni salva un paio di tentativi da parte di Gabrielli e Stivaletta Sartori prova poi a sorprendere dalla distanza Ciotti fuori dai pali poco dopo imitato in area da Degano con pallone che finisce fuori il San Nicolò ha qualche difficoltà di troppo ad avvicinarsi all'area avversaria e non riuscirà mai a creare nel corso del primo tempo vere e proprie occasioni da gol nella ripresa Epifani manda in campo prima Bisegna e poi Massetti al posto di Bosi e Iorio non ancora pienamente integrati negli schemi di gioco il San Nicolò sfiora il vantaggio al tredicesimo quando da un cross di Chiacchiarelli Traini fa da sponda per una semi rovesciata di Bisegna che finisce fuori la beffa si consuma 5 minuti dopo quando Degano serve palla al neo entrato Pasquini che infilla con un lob Ciotti per il vantaggio della re canatese Epifani butta quindi nella mischia anche Moretti per cercare il pareggio che arriva al 28esimo dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra battuto da Bisegna De Santis anticipa a Foyera per il pari del San Nicolò è la prima rete stagionale del difensore in campionato a 5 minuti dal termine Massetti prova a servire Traini in area ma il pallone finisce fuori facendo sfumare una buona occasione per i biancazzurri nel recupero il San Nicolò vorrebbe un calcio di rigore per un presunto tocco di mano in area ma il direttore di gara lascia correre poco prima della fine Traini spara alto a 2x2 con Foyera un'occasione clamorosa per vincere la gara finisce così con il secondo pareggio consecutivo in casa per il San Nicolò in questo inizio d'anno risultato che dà parzialmente seguito alla vittoria contro il Matelica ma che di certo non può soddisfare pienamente la squadra di Epifani Grazie a tutti Grazie a tutti